Renato Diodati, Reduce della Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto ai campi di concentramento, da oggi ha una piazza intitolata a suo nome. La giunta guidata da Francesco Maragno, infatti, ha deciso di dedicare al Montesilvanese la piazzetta antistante e il Centro Sociale per Anziani di Montesilvano Colle. La cerimonia si è svolta questa mattina in occasione del primo anniversario della sua morte. Ha lasciato in ciascuno di noi un voto molto profondo perché è riuscito a testimoniare con semplicità ma a volte anche con il sorriso sulle labbra i fatti drammatici che ha vissuto in prima persona durante la Seconda Guerra Mondiale quando venne internato nei campi di concentramento. È un dovuto riscontro all'opera meritoria di uno dei nostri cittadini più eletti che hanno rappresentato davvero la storia di questa città. Presente, tra gli altri, il figlio di Renato Diodati, visibilmente commosso per l'omaggio al padre. È una sorpresa piacevole che il sindaco ci ha voluto fare. Siamo onorati di questo, chiamiamolo, regalo, tra virgolette. E quindi è una bella giornata per noi. Mi dispiace soltanto per i miei figli che non sono potuti essere presenti perché sono lontani e quindi purtroppo non è stato possibile fargli rientrare. Qual è il ricordo di suo padre, quello più vivo in lei, di quando era bambino? Beh, di quando ero bambino, lui, diciamo, essendo falegname, per un ragazzino piccolo entrare nella falegnameria e cercare di giocare con il legno e con tutto quello che mio padre faceva con le sue mani, insomma, era la mia passione.